Ed è questo il nostro fuori programma di oggi. Ci siamo spostati con il set perché da chiacchierare con una giovanissima, si chiama Claudia Catalano e approfondiremo un po' qual è la vocazione di una giovane donna che si occupa, sicuramente si è occupata di volontariato e che poi intraprende una strada non del tutto semplice ed è quella del matrimonio. Lo mettiamo tra virgolette perché in effetti poi insomma affrontare questa scelta e questo percorso insieme ad un compagno di viaggio non è cosa semplice. Benvenuta Claudia. Grazie. Dicevamo ti sei occupata di volontariato, adesso lavori, hai una passione e poi la sveleremo più in là, però fondamentalmente ci incontriamo per raccontare la bellezza di una scelta che è quella del matrimonio. Esatto. Al giorno d'oggi insomma è in crisi sia il matrimonio che la fede cattolica, però c'è ancora qualcuno convinto di fare questo passo. Sì, noi ne siamo consapevoli e convinti. Tu e il tuo compagno che si chiama? Il tuo fidanzato. Si chiama Michele. Michele. Fa l'infermiere e siamo arrivati a questa scelta che possiamo dire una scelta ponderata. Sono tanti anni che stiamo insieme quindi non è stata diciamo una decisione avventata o affrettata. Ci abbiamo pensato bene. Oggi credo sia abbastanza difficile pensare, non pensare di sposarsi, ma pensare di affrontare tutta una serie di difficoltà che comunque la vita ci pone davanti. Si smette di essere uno e si diventa due. Quindi è un nuovo percorso di vita che si sceglie di affrontare insieme. Da quello che dici si intuisce anche che vi state preparando a questo passo, quindi con i cosiddetti percorsi prematrimoniali. Sì, esatto. Noi ci sposeremo alla Basilica di Siponto. Il nostro riferimento al momento è padre Mario Moscori che è lì agli Scalabrini. Ci sta aiutando tanto in questo percorso, che possiamo dire anche un percorso di crescita. oltre ovviamente all'importanza del vero corso prematrimoniale che stiamo facendo, quindi che ci consente anche di confrontarci e relazionarci con altre coppie che come noi appunto sono giunte a compiere questo passo. Sono vicine, sono prossime al matrimonio. Hai fatto riferimento ad un sacerdote, padre Mario. Ovviamente ricordiamo per chi ci segue dal nord che la Basilica di Siponto si trova nei pressi di San Giovanni Rotondo, insomma molto vicina a qualche chilometro, molto bella, molto suggestiva. L'importanza di una figura come quella di un sacerdote, nell'accompagnamento e nella preparazione al matrimonio è fondamentale, anche se qualcuno può fare la critica. Cosa ne sanno loro della vita in due? Ma si può ritenere una vera e propria benedizione perché comunque, come dicevi tu, è una guida soprattutto spirituale. Soprattutto spirituale, sì. Ci sta accompagnando in questo percorso, come dicevo anche prima, che diviene quindi un percorso consapevole. È vero che oggi la fede cattolica è un po' in crisi. Padre Mario ci dice sempre che vorrebbe vedere sempre più giovani in chiesa e se ne vedono in realtà sempre meno, purtroppo. Noi ci crediamo. Veniamo da due famiglie cattoliche, quindi ci è stata inculcata la fede, l'educazione cattolica, però a prescindere da questo ci crediamo fortemente. Padre Mario, come dicevo, è una figura importantissima. sì, magari è un sacerdote, quindi del matrimonio potrebbe non saperne, però in realtà credo che non sia così, perché ci sta letteralmente portando per mano, ci sta tenendo per mano e ci sta guidando. Quindi al momento è una figura imprescindibile, senza ombra di dubbio. E' bene sottolinearlo anche perché le critiche poi sono tante. Ovviamente in questi corsi prematrimoniali ci sono anche figure di esperti, no? Perché comunque si trattano diversi temi. Esatto. Ci sono anche, ecco, adesso che tu insieme a Michele li frequentate, ci sono anche dei motivi contrari al matrimonio, cioè ve li pongono, ve li fanno vedere, ve li mostrano. Sì, allora in realtà... State attenti perché se decidete di fare questo percorso insieme queste sono le difficoltà che incontrate. Sì, allora in realtà il corso è iniziato da poco, però si alterneranno tutta una serie di figure, come dicevi tu, esperti, quindi professionisti psicologi, psicoterapeuti che verranno insomma a darci un insegnamento e un supporto, anche perché effettivamente le difficoltà che si incontreranno nel matrimonio saranno tante. Per il momento il percorso che abbiamo appena iniziato riguarda forse tutti gli aspetti positivi, quindi ancora non abbiamo incontrato quelli che saranno poi gli ostacoli, però è previsto ecco dal corso che è insomma abbastanza completo. Anche perché diciamo vengono evidenziate le problematiche della vita di coppia, l'educazione anche religiosa dei figli perché ci saranno anche i figli, la sessualità, poi l'atteggiamento che in una coppia si deve continuare ad avere anche dopo diversi anni di matrimonio, quindi subentra la noia, la routine, è bene ecco suggerire anche le soluzioni. Certo. E in modo particolare oltre agli esperti, alla figura del sacerdote che tu citavi prima, c'è anche di solito una coppia tra virgolette esperta anch'essa, cioè qualcuno che ha già anni di matrimonio alle spalle e quindi può dare consigli e suggerimenti. Sì, questo ancora non è successo. Siete all'inizio. Siamo all'inizio, però sì, sicuramente avremo un modo di confrontarci. Però sicuramente nel vostro percorso, visto che diversi sono stati gli anni di fidanzamento, avete anche avuto a che fare con altre coppie sposate, quindi un po' di idea ve la siete fatta. Certo, sì sì sì. Credo che comunque ogni storia e ogni famiglia, perché poi si diventa una famiglia singolare, ci sono ovviamente i nostri punti di riferimento, ma è ovvio dirti che sono i nostri genitori, quindi è normale che noi facciamo riferimento a loro e anche loro sono una figura importantissima. Noi siamo molto legati alla famiglia, quindi sono molto anche coinvolti nel percorso che stiamo facendo, quindi sia nel matrimonio, l'organizzazione, la preparazione, che la casa, quindi tutto quello che ci gira intorno. Però nel momento in cui si crea questo nuovo nucleo familiare, la famiglia di origine sì è necessaria, è stata il fondamento di tutto, però poi insomma un po' si deve mettere da parte. Certo, sì sì, perché comunque in primo piano ci sarà la nostra famiglia, speriamo, quindi il nuovo nucleo familiare che si formerà, senza dimenticare che comunque alle nostre spalle ci sono le nostre famiglie, i fratelli, le sorelle, tutto quello che c'è intorno, che però effettivamente, come dicevi tu, non dico che diviene un contorno, però comunque sta intorno, ecco voglio dire così. Ed è bella anche questa immagine. Ovviamente questo è una sorta di spot, se vogliamo, pro matrimonio, per il matrimonio cristiano, quindi insomma ci piace avere questo spazio, la prossima volta magari prendiamo appuntamento anche con l'altra metà della coppia, se riusciamo ad organizzare, anche dopo, successivamente, magari ecco, è un bel percorso questo che possiamo fare insieme, seguire una coppia dagli inizi. Dicevamo, sicuramente anche per questa scelta c'è stata la complicità della tua educazione, il fatto che comunque, lo abbiamo detto all'inizio, hai prestato il tuo tempo anche per del volontariato, comunque per gli altri, per il prossimo. Quanto hai inciso questo sulla tua formazione? Mi ha cambiato tantissimo, perché io mi sono avvicinata all'esperienza del volontariato grazie al servizio civile che ho fatto qui in una casa anziani, casa anziani Padre Pio. Non ero mai stata a contatto con gli anziani, dico la verità. Quindi è stato un momento decisivo. Io lo dico sempre che mi ha cambiato e mi ha cambiato proprio la vita, nel senso che io ho scoperto un mondo, cioè gli anziani sono secondo me veramente una risorsa, mi ha formato e mi ha assegnato. È stato veramente un percorso educativo, di crescita, anche professionale, perché io ho imparato tantissimo. Magari a volte il servizio civile o comunque il volontariato in generale viene visto un po' come un ripiego. Sai, non lavoro, mi butto su quello. Ma in realtà io lo consiglio a tutti, i ragazzi più giovani di me, lo consiglio perché è un'esperienza che non solo ti fa approcciare al mondo del lavoro, perché comunque un minimo è un'esperienza retribuita, ma anche se non lo fosse, comunque ti... Ti cresce, ti forma, ti fa crescere. Ti fa crescere e ti dà tanto. Anche tu dai tanto, perché poi scopri che sei in grado di dare e vedi che dall'altra parte la gente, che poi siano gli anziani, la mia esperienza, o i bambini, i malati in generale, comunque vedi che c'è un ritorno, che è comunque un ritorno interiore. Sì, sì, ma effettivamente noi l'abbiamo sempre sottolineato quando abbiamo parlato di volontariato, la bellezza, la chiave di volta sta non tanto nel dare il proprio tempo, il proprio aiuto a chi ha bisogno, ma è quel ritorno che inaspettatamente poi arriva. Esatto. Quindi è formativo ed è utile anche a chi lo fa. Sì, sì, sì. E quindi questa esperienza... Forse soprattutto, perché veramente ti cambia, ti segna e ti insegna tanto. Bene. Quindi sì. E complimenti. E poi so che hai una passione, che è quella della scrittura, perché anche lì, insomma, sei cresciuta e ti sei innamorata. Sì, della scrittura da sempre. Mia madre mi dice sempre che ero ancora nella culla e già scrivevo, già leggevo, di tutto, giornali, riviste, libri, di tutto. La scrittura è per me una valvola di sfogo. Poi in generale proprio la comunicazione è uno stile di vita. Lo faccio in tutti i modi. Cerco di farlo in tutti i modi. Oggi poi c'è tanta possibilità di farlo in tutti i modi. Sì, sì. Anche se ti devo dire la verità e sono sincera, io scrivo ancora con la penna. Non è male. Nel senso che quando scrivo, scrivo con carta e penna. Quindi non... sì, poi sono anche tanto social, però se lo devo fare... La vera scrittura. La vera scrittura intendo quella. È una passione, la porto avanti, cioè non la lascio. Nel senso, quando ho tempo, quando lo posso fare, lo faccio perché mi piace, mi diverte. E questa è anche una bella cosa. Insomma, abbiamo conosciuto Claudia anche perché, ecco, piena di risorse anche tu, così come è stata una risorsa per te tutto quello che ti è girato intorno fino adesso. Ti auguriamo di, ovviamente, di realizzare i tuoi sogni, quelli che sono ancora nel cassetto. Questa magari è un inizio, questo. Quindi ti facciamo i nostri più sentiti auguri. Ma soprattutto ti rivolgiamo qui, ecco, magari per raccontare come procede. Come va avanti. Sia alla preparazione, al matrimonio, questo bellissimo passo, questo passo da fare in due, magari è qua anche accompagnata. Va bene. Il tempo televisivo, come vedi, corre. Abbiamo già raggiunto la soglia. Sì, sì, infatti. Ecco, un'occasione in più, questo è un motivo in più per ritrovarci. Ritornare, sì. Magari un altro appuntamento. Grazie a voi per averci seguito. Grazie a te, Claudia. Grazie a te. Ancora in bocca al lupo. Ci fermiamo per una pausa. Grazie a te.